Scusa, mi sono svegliata adesso e ho dormito tutto il giorno perché praticamente erano due giorni che non dormivo, perché prima notte ho preparato tutti i cartelli, tutti i plastificati perché si immaginava che avrebbe piovuto. La notte non ho dormito perché con la macchina accesa per avere il riscaldamento io non riuscivo a rilassarmi, non più capisci di fronte a un tribunale dei minori tutto infestato di demoni, era una cosa che io proprio ero tutta piena in preghiera praticamente. E poi comunque sono stata sempre presa con le chat perché tutti continuamente scrivevano per darci conforto, per fortuna che Chiara ha dormito come un angioletto perché lei tutto il giorno instancabilmente ha parlato con tutte le persone che passavano davanti al tribunale tutta tappizzata di cartelli con una pioggia, la pioggia è cominciata la sera perché io non è che stavo sempre vicino, perché a volte dovevo andare nel bar perché il mio telefono si scaricava e quindi lei rimaneva da sola, esco dal bar, la trovo tutta con la pioggia, poverina, e la niente, come niente, forse continuavo a parlare con tutti, con tutti e non ti dico i poliziotti che ci sono stati vicini tantissimo perché lei praticamente è un anno intero che continua a andare sempre, perché prima è stata male da morire perché le hanno tolto i bambini, ha avuto un'ischemia, le si è paralizzate tutta la parte sinistra del corpo, non parlava più, non mangiava più, era regredita totalmente, poi dopo Bibiano si è ripresa e ha cominciato, adesso non smette più di parlare, e continua a ripetere a tutti la sua storia e sta facendo molto successo a Brescia, cioè io ero nei bar, nei bar tutti parlavano di questa storia, di queste suore che praticamente, dove è stata lei in casa famiglia, che le hanno fatto tanto male, va bene, comunque al di là della sua storia personale, secondo me, io ho sentito molto la presenza di Dio per il fatto che, perché prima, cioè intanto lei è sempre stata forte, non ha mai ceduto neanche quando, appunto ieri, no scusa, è stato stamattina che c'era un vento pazzesco, che ci ha rotto tutti e due gli ombrelli e lei continuava, estancabilmente, a parlare a tutti quanti e a un certo punto i poliziotti della Digos e tutti, prima, ecco il giorno prima, dopo un'ora sola che si era incatenata, è riuscita ad andare a parlare con la giudice che le ha portato via la figlia e senza offenderla, senza dire parolacce né niente, le ha detto, ma lei come fa a dormire, io non dormo più la notte, sono così, insomma, in pratica, e questa è stata zitta, non so, io non c'ero purtroppo, non posso dire niente, però lei aveva bisogno di parlare con sta giudice per una questione di coscienza proprio, e dopo di che lei, l'altro obiettivo era che voleva parlare col Presidente del Tribunale dei Minori, perché in effetti è la maggiore autorità del Tribunale e quindi è giusto che sia lui a prendersi, lei, insomma, a prendersi la responsabilità del fatto che questi giudici firmino continuamente questi rapimenti di bambini, che poi le mamme non sanno più neanche dove sono andati a finire, adesso questi sono casi molto più gravi di quello che hai tu, e che non li fanno più vedere i figli, perché queste mamme non abbiano fatto niente e non li fanno vedere i figli lo stesso, per anni. E quindi morale della favola, stamattina io ero distrutta, ho detto senti piove, c'è ombragli rotti, continua sto vento, cioè andiamo via, ci fanno un TSO, non possiamo stare qui, e lei continua a dire no, 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 io resto qui perché questi sono i miei figli, insomma i poliziotti a un certo punto hanno convinto la Presidente del Tribunale a dare quest'udienza alla Chiara e le hanno dato la carta proprio scritta con un appuntamento e tutto, e il poliziotto l'ha baciata in fronte, e contemporaneamente tutti i giornalisti continuano a telefonare ancora adesso, che vogliono assolutamente portare la sua storia. Cioè questo capisci un giorno, perché un giorno, una notte, noi siamo arrivati ieri alle nove, e oggi alle nove avevamo risolto tutto, e in più adesso i giornalisti continuano a chiamarla. Quindi un successo straordinario effettivamente, come dice Stefania, che anche Gesù lo dice, che certi demoni si possono vincere soltanto con la preghiera e il degiuno, questo è provato.